In Atlas, l'ultima volta che ci abbiamo giocato due giorni fa, dovevamo cucinare tonnellate di carne di cinghiale al fuoco per riuscire a salire di un millimetro sulla barra del cibo e morivamo di fame costantemente. Ma c'era che è Esprit? Aspetta. Esprit merda, vieni se vuoi. Sono offeso, mi hai mai stare il culo? Attenzione. Mi piacerebbe provare a giocare con Esprit e Gatto, ma se non riusciamo a trovarci è un casino. Perché rimane il problema che i server sono tutti un po' sballati. Beh, a sto punto proviamolo, dai. Cari! Perché urlano tutti come dei deficienti? Bisogna capire dove cavolo è spunto Cari. Sono in basso a sinistra dell'isola. Intanto vado sulla terraferma. No, non è quella la mia isola. Dove sei? È davanti alla isola. Cioè io sono nato su un'altra isola. Sei in nessun'altra isola? Aspetta che devo... Eh, sulla mia dovresti essere tu, Esprit. Cerca la morta della bella, Esprit. E quindi dobbiamo andare a prendere un creme gatto. Eh, vieni sulla mortadella, poi prendiamo l'argo. So, Micchia, sono in un'isola dove non c'è niente da raccogliere. È finita. Devo andare un attimo a esplorare l'isola perché senza le fibre non posso costruire niente. Hello? Excuse me. Do you have any fiber to give me, please? Thank you very much. Me le date? Un po' di fibra qua? E l'accetta ce l'abbiamo. Dai, è forte così possiamo prendere un po' più di legna. Accetti la sfida? Bravissimo. Che cazzo? Un lupo gigantesco mi sta attaccando. Ah, Esprit, raccogli le tue cose che adesso partiamo per andare a trovare Kering Musa. Scusa. Eh, vabbè. Ma che vuol dire? Scusami. Hello, sorry. Sorry. Hi. L'ha colpito l'avvent. Can you give me some fiber, please? Cazzo, quanto quanto ho guardato quello? Hai visto? I don't get any fiber right now. Oh, ok. Can you give me an axe, maybe? If you have any? Ah, mi ha detto seguimi se ne vuoi una. Ah, ecco, forse qua. Thank you very much. Thank you. Mi ha fatto trovare dell'erbetta per raccogliere. Gentilissimo. Siete arrivati, amici? No, ma che... C'è una nave che ci sta per ingaggiare. Eh, andata. È finita? Eh, ma le cose fiche voi le fate? Io le sto raccogliendo le erba. Te la descrivo. È una scarpa con sopra delle ossa demoniache. Ed è... Sandi e canoni, guarda di là. Giallo splendido. Mi fai uno screenshot? Grazie. Ti mando una fotografia. È la pantofola di mia nonna. Sì, ma ha 69.000 di vita, gatto. Ma come fa ad essere una scarpa quella, gatto? È una scarpa. Ma non l'hai vista da vicino. Facci vedere uno sprazzo di divertimento. Eh, che vuoi da me? Aspettiamo l'oro. Ma io sto vedendo, credo, una creatura a nuoto. Una iena. Che cazzo è quella roba lì? Mortadella bella, vi ho visto! Ecco, infatti. Eh, ragazzi, non si chiude la vela. Ottimo. Eccomi. Voglio vedere... Amici belli. Ma perché sono già chiuse, gatto. Ma torna incastrata malissimo la barca, ragazzi. Cazzo. Ho fatto una scopetta. C'è un cavallo. Anca la guai, peninsula. Cazzo, abbiamo fatta. E adesso andiamo a 5 ore di me. Non so che addominali, gatto. Hai visto? Vuoi vedere i capelli? Vai. Cazzo, non gli hanno neanche messo un qualcosa in mano quando guarda il menù. C'è una scimmietta qua che, poverina, non sa dove andare. La massacrerei di calci. Assolutamente sì, anche perché ti dà la pelle. Eh, ma... La carne. E sotto la barca. Gatto? No, dai, eh. È finita. Eh! Ciao, stronzi! Eh, sono qui. Eh, niente. Vabbè, ciao, stronzo! Eh, spit! E su, guarda che... Arrivo! Con un salto solo! E c'è... Chiudere le velle, lo puoi fare, tu? Sì. Full close on sales. Ma perché io no? Scusami, non è la mia. Ah sì, stai certo. Provo te, Karim. Ti ho premuto E e fai fully close dovresti averlo. Eh sì, io lo posso fare. Allora, io no, è mia! Gatto, se noi poi chiudiamo il gioco qui e lo riapriamo, siamo di nuovo sulla zatera con te? Eh, il problema è che se moriamo... Non lo so perché quando l'ho fatto mi sono svegliato ucciso da un lupo. In mezzo al mare, eh? Un lupo di mare. Bravi tutti. Ma tra l'altro qua non puoi cagare in questo gioco. Eh, io ho visto delle persone cagare... Allora, metto il letto. Non posso metterlo il letto. Ah, ci sono troppe strutture su questa piattaforma. E noi dobbiamo farli salire di livello una nave. Navighiamo. Sto facendo un minigioco per bere l'acqua. Che cazzo vuol dire sta roba? Cazzo bello anch'io l'acqua. Beh, metti il piscio, eh, Esprit. Eh, va bene. Sempre acqua è. Vengono nella mia nave e pretendono anche di togliere il mio fuoco. Sempre acqua è, ha detto, col piscio. Oh, se non posso morire, carino. Vieni alla mortadella bella. Io vi do dieci secondi e parto, eh. Si va? Vai, gatto, tutta tua. Sì, tutta mia, però intanto non posso fermarla. Guarda un po'. Accendiamo il fuoco per un po' di luce, ragazzi. Voilà. Ecco, questa è la parte... Cioè, il gioco sarebbe dovuto partire così. In questo modo, con una zattera, te ne vai in giro a fare quello che vuoi. Come si... Il Team's è meglio. È incredibile. Paravaparava. 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 Esprit beve piscio. Pa, pa, pa. Ma perché mi l'ha interrotto in vita anche la frutta, scusa? Ma, allora. Ma adesso la prendi questa scatola e la butti in acqua cortesemente, quindi devi inquinare la nave. Ecco fatto. L'hai buttato in acqua? No! Eh, perfetto! E come Rust, cacci un orso da cui raccogli carne di cervo che una volta cotta è pollo. C'è una... Eccola la nave lì di Fast and Furious, guarda! Adesso ci avviciniamo e dimmi se non è una ciavatta. No, non ti avvicinare, che non voglio perdere tutto subito. Però questo è il massimo che io sono riuscito a fare con Atlas da quando è uscito. Che ho fatto? Ah, questo ho fatto forse. Che fischia? Come si fa? Ah, c'è una luce viola lì! È la cassa! C'è una cassa, gatto! Poni, nazi, ma adesso giro! Mamma mia, che ansia che ci avete! Veloce! E per me aver trovato una cassa viola è incredibile, visto che... Io ho visto cespugli e alberi per ore in sto gioco. Penso che ho trovato quella d'oro e sono morto poi, quindi... Beh, è attaccato da un lupo, perché? Perché siamo lupi di mare. Pi, pi, pi... Eh sì, ho trovato una cassa epica. No, Esprit! E niente, l'abbiamo perso. Quanto giù è andato? C'è uno squalo dietro di te, Esprit! Anche il catrero! Guarda come nuota bene la superficie. Allora, ho preso un po' di roba. Ah, posso metterla a cassa? A posto. Uè, Brambilla, ti sta crescendo la barbetta. Sì? Eh sì? Il fatto che ti cresca la barba è anche una cosa figa, voglio dire. Dove siamo diretti, dove ci porta il cuore. Pa, 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 pa. Eh, è salita di livello la barca! Metti le cose giuste, aspetta, com'è? Metti che posso mettere il letto. Accomodissimo. Ma è tante buoni. Quanta scarpa davanti a noi comunque c'è? Guarda lì, il pantofolone. Ma è livello 3, magari con la lancia li ammazziamo, come gli animali. Quindi ci danno a lancia. Aspetta che ne ritiro una, eh. Porco boia ci vengono addosso. È finita? Questo è livello 4. Madonna che bella però. Vedi la base? Che è una calzatura. Ma no, veramente no, ti giuro. Dobbiamo trovare il modo per mettere i letti. Perché sennò moriamo, è sprit ed è tutto inutile quello che abbiamo fatto oggi. Ok, vedo il limite del server. Questo che vedete, avete presente i quadranti della mappa? M7, M6. Quello è il limite del quadrante. Superando quel limite entri nel quadrante dopo. E quello è una specie di caricamento fasullo per entrare in un altro server di un altro quadrante. Muaaaaa. Eh? Eh? Sì, ok. Era invisibile il caricamento. Eh, io non posso mettere il letto ragazzi. Ma andiamo al porto, ci facciamo una barca a noi e mettiamo il letto sulla nostra barca. Ma per fare la barca dobbiamo rifarmare tutti i materiali. Eh, è vero. Certo. Io vi guardo. Gatto, ferma la barca, gatto. Non posso fermarla. Porca puttana, spostati! Posso mettere? Ok, ferma. Fermalo! Eh, non riuscivo perché... Che bo... Sorry! Sorry! Hello! Eh, vabbè! Guarda questo qua è veramente un ricordo, guardalo! Chi è? Grazie! 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 Ma che sei chieno? Fa... Please don't yell, don't scream, please. Ma... Gatto, chi hai recrutato? Quanti cazzo tuoi? Che hai reclutato, gatto! Ho preso Bob! Ma che cazzo è, Bob? Ma che questo è un coglione! Guarda che questo si respawna nel letto e ci ruba le cose! Ma è il mio amico! Ma chi è tuo amico? Ma chi lo conosce? Ma buttalo fuori! L'ho pagato! Ma per fare che? Ma che cazzo ne so? Ah, ma... È un NPC! Eh, sì! Eh, ma dillo prima! Scusa! Dovrebbe seguirti! Prova ad allontanarti! Vai lontano! Non c'è follo un tipo! Assolutamente non stava seguendo! Che cazzo, Bob! Aspetta, prova ad andare verso il porto! Vai verso il porto! Aspetta, i nostri sprecati così per... Eccolo! Eccolo! Gatto, costa un... Un'oro ogni due ore! Però guarda che... Guarda che capezzo lì! Ben spesi sti sono! Ho capito! Allora, usalo il più possibile sto poveraccio! Allora, nella nave ci stiamo in tre! Nella crew? Nella nave! No! Me l'hanno distrutto! No, gatto! Ma era salita troppa gente! Ma dai! Come... Come... Come è successo? Scusa! Era lontano 2018 quando creai la Mortadella Bella. Ne abbiamo passate tante insieme. Quante avventure fantastiche! Quante avventure fantastiche! Fra mille azioni acrobatiche! Tanti avversari da battere! Con forza! E perché no! Volontà! Ricordo ancora quando insieme ad Esprit andammo a recuperare Karim. Eh! Sembra sia passato solo qualche istante da allora. E lei lì! Sempre lì! La mia Mortadella Bella! Ridevamo! Ballavamo! Esprit beveva piscio! E il fuoco del falò illuminava i nostri volti colmi di gioia! Poi giunse quel giorno. Quel... Maledettissimo... Giorno! Giorno! Noo! Me l'ho distrutta! Noo! Giorno! Oh! Nooo! 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 Non ti chierò mai, amica mia. Non c'è più niente, c'è una paligia, c'è una 24 ore. C'è così facile rompere la barca di uno, salirci in quattro? U.S. Souls. Siamo tutti qua che gliela spacchiamo questa nave di me. Ma Bob non sale. Bob! No, mi ha distrutto la nave e adesso sono demoralizzato. Eh, per forza. No, vabbè, tanto adesso ne creiamo un'altra e siamo della stessa che U e rinasciamo lì. Adesso lo so ammazzare agli animali. Cazzo è, Bob. Ti è finito, Bob. È incastrato sto rincoglionito bastardo. Bob! Si è incastrato con la testa, Bob. Niente. Bravo perché respira sott'acqua, però. Vedi che c'è Bob sotto la nave dove sei tu? Ah, sì. Ah, ma è proprio incastrato, gatto. È proprio incastrato. Merda. Sto coglione. Esprit, l'hai creata la barca? Eccola. Come la chiamiamo? In quarta fila. Io la chiamerei... Ehm... Per... Che situazione terribile. La USS non lo so. Che d'altro dovrebbe apparire anche nella targa, vero? Ma non la USS, non lo so, hai messo l'articolo? L'hai chiamata la USS, non lo so. Ma come sì? Esatto, il Titanic. Esattamente. Guardati. Cosa sono diventato? Bellissimo. Ah, è vero, adesso ho anche un po' di capelli. È Bob, scusami. È Bob, Bob Sinclair. Quanta fibra ti serve? Ho messo il letto tutto storto, scusatemi. Che fastidio, proprio nel posto più basato. No, l'ho messo un pochino storto perché la barca si muoveva. Ma in mezzo comunque ai coglioni. Guarda lì che bel bel beliero, andiamo lì addosso. No, no, no. È scemo? Scusate, sto mandando un messaggio. www.marcotogni.it.it. Quello del... il pagliaccio. Cosa è? It. Punto. Orge. Ah. Sì. Hai visto che movimenti sessuali che fa qui il... il piripipacchiolo? Qui in alto. Scusami. Ah, il carrucolino. Fa delle sessualezze. Sì. Hello. Hello. It's me. Blocca la barca. Hello. Hello. Hi. Hi there. Good luck to your journey. And you too, that's... Thank you. Do you like boobies? Ma perché? Ho chiesto. Educazione. Stai andando bene? Stiamo facendo un po' di... No, no, no. No, no, no. No. Un po' di roleplay stiamo facendo. Tu ti rovina, I like boobies e l'altro tira le cose. Le boobies. Ma che fa la spaccata a questo pazzo? Ma che ha fatto? Che posizione è? Scusami. Aiuto. Aia, che boobie. Possiamo fermarci qui o crasha tutto? No, no, no. Guarda, faccio ancora... Allora, chiudi la barca. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Quindi sono un albero. Come funziona? Sono una risorsa del gioco. È diventato un kaiju. È finita. Ma si lancia un po' questa lancia del cacchio? Le molli... E la molli... Grazie. Posso prenderla? Sì, me l'ha presa. Ho preso la lancia dal pene di gatto. Ma ci sono un sacco di tedeschi che ci sono comunque, è una cosa incredibile Hi Germany! Po 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 Grazie a tutti